salve a tutti ragazzi e benvenuti da shiva in questo nuovo video di fallout 4 viene dobbiamo parlare ah iniziamo col botto ho fatto un po di quest dicevo dei minuti per poter far sì che aumentassi un po la reputazione prendere un po di munizioni un po di armi un po di cose varie giusto per giocare un po così off camera e siamo arrivati a questo punto spero non sia niente di grave grave no no stavo aspettando l'occasione giusta per parlartene e questo mi sembra un buon momento mi hai aiutato a trovare la cura per duncan alla medtech e sono in debito con te e io i debiti li pago sempre volevo darti questo ah fantastico mi sarà molto utile quando mi dovrò sedere sul seggiolino della bicicletta va bene so che un soldatino di legno è una ricompensa insolita per aver rischiato la vita ma questo è speciale significa molto per me grazie grazie non c'è di che mia moglie Lucy me lo ha dato poco dopo il nostro primo incontro le avevo detto che ero un soldato e così l'ha fatto per me non ho mai avuto il coraggio di dirle la verità era un mercenario e un assassino la storia del soldato è stato il ripiego migliore che ho trovato non volevo perderla per colpa di quello che ero di sicuro avevi le migliori intenzioni sapevo che avresti capito ormai che importa è morta qualche anno fa una sera abbiamo fatto l'errore di nasconderci in una stazione della metropolitana non sapevamo che fosse infestata da gulferali l'hanno aggredita ancora prima che riuscissi a sparare un colpo l'hanno smembrata davanti ai miei occhi non ho potuto fare nulla sono scappato con duncan in braccio più veloce che potevo forse era meglio se ci ammazzavano tutti ma io tutte le stazioni metropolitane che ho visitato ho trovato solo gul però penso che dovesse saperlo uno come lui però hai perso tua moglie ma hai salvato tuo figlio questo conta hai ragione ma non so più cosa pensare dio quanto mi manca anche quando le cose andavano male lei per me c'era sempre mi ha dato mi ha dato il coraggio di andare avanti di non arrendermi mai quando è morta quel sentimento sembrava perso per sempre poi ho incontrato te hai i problemi del mondo sulle spalle e sei qui a risolvere i miei aiutandomi proprio come faceva lusi la tua amicizia significa molto per me solo i veri amici condividono cose del genere già e non voglio che le cose cambino comunque grazie per avermi ascoltato togliermi quel peso di dosso renderà il viaggio più leggero se capisci cosa intendo a proposito che ne dici di rimetterci in cammino fantastico ce l'abbiamo fatta ragazzi era ora colpo mortale per aver raggiunto il massimo con mccready vediamo questo colpo mortale che cos'è vediamo un po sono tanto contento al colpo mortale scusate ottieni 20 per cento di precisione per il colpo alla testa con lo spam questa è un'ottima notizia sono tanto felice che c'è prendi ti servirà che cazzo mi hai dato dovremmo dividerci per un po ok tornerò a casa e ti aspetterò lì fai attenzione il commonwealth non è il posto più sicuro per girare da soli beh neanche per girare con te a quanto pare vabbè mandiamolo a century hills ciao è stato veramente un piacere separarci oh santa miseria quanto è questo dovuto fare ne ho fatte diverse tutte di difesa più che altro vedete ho ammazzato gunner ma c'erano tanti gunner che avevano erano tutti elite questo era uno di quelli ma ragazzi della roba ma della roba che lasciamo perdere però ho trovato una coscia scusate le mie armi questa da un altro grande che adesso è inutile che vi faccio vedere perché una volta tolta la speciale approccio scritto leggendario così posso farvelo vedere mi ha dato questo che insomma l'ultimo colpo del caricatore infine il doppio dei danni per carità perché questo adesso dovrebbe essere tipo mitra se lo mettiamo proprio da combattimento doveva fare sui 90 90 quindi 180 non sarebbe male però l'ultimo colpo dovevi mettere un caricatore proprio misero misero e mette l'abilità mani veloci che ricarica in fretta ma non mi sento proprio di fare una roba del genere il gunner che mi ha dato leggendario questo è un altro vedete che è un altro leggendario fa proprio del cazzo ma il gunner che mi ha dato il leggendario quello lì che vi dicevo era adesso ve lo faccio vedere dovrebbe essere giusto per la insomma per parte che qui non ho raccolto e quindi scusatemi ma forse era qua abbiamo stati così ma ne erano venuti una decina una roba esagitata proprio comunque non lo trovo scusatemi tanto la quota gunner sergente gunner non lo trovo per pazienza scusatemi ma pensavo di trovarlo invece non l'ho trovato e pazienza per tutti comunque mi ha dato quell'arma e tanti saluti a tutti bene possiamo a tornare dai railroad finalmente a dirgli wey jodey ho fatto da questa siamo tutti a posto allora rifugio ralph recupera le informazioni nascondiglio vai nascondiglio per conto di quello la e trova questo già una questione basta non erano tre request ma io me ne ricordavo tre vabbè comunque andiamo a fare rifugio ha proprio un posto mai visitato ma io mi teletrasporterei qua e poi da lì andiamo a piedi a dopo eccoci qua possiamo andare tranquillamente ma quanti posti che non abbiamo bisogna che li faccia ragazzi l'esploratore che in me sta urlando forte e bisogna che lo sentiamo un pochino qui c'è una macchina dio una macchina un autoveicolo qualcosa vediamo due passi da qua guardiamoci un attico tanto qua che sono caccato in mano sentivo un rumore strano ma porca miserica scusate ho fatto un piccolo salto non è niente stavo dicionando qui c'è qualcosa che botte sono queste da urbi da orbi stanno andando in fretta e furia vediamo un po cos'è questa roba c'è un cazzo vediamo un po siamo proprio due passi eh quindi vediamo sono curioso insomma che cazzo sembra un veicolo si è un veicolo tucker memorial bridge bene poteva fare la forma di la miserica che cazzo ho fatto potevano fare se niente più la miseria mi sono fottuto tutto porca vacca scusatemi non è che volessi ma porca vacca è ok ho fatto la cacata però insomma non c'è bisogno di farmi notare così eh insomma ok ho fatto io questo buco spero di no insomma si vabbè è stato bello venire fino a qui quindi no penso che forse qualcosa di sotto che senso ha una struttura che ho bagatato per sapere e niente ho ricaricato perché volevo vedere effettivamente cosa ci fosse ma perché tutti questi esplosivi adesso capisco perché tutto sto casino era tutto uno esplosivo ma porca miseria vogliono proprio che vada fuoco a questo posto e poi ho trovato il pirla come vabbè che dovevamo sparare vediamo che succede è successo un casino vabbè non capisco il motivo di questo casino pensavo che fosse questo il posto ma non lo è quindi io me ne andrei con tutta premura mamma mia i carrelli della spesa pieni di esplosivi e questi presumo esplodano lo sciò ma vabbè allora andiamo dove dovevamo andare tanti saluti almeno ho ripistinato il danno che ho fatto l'ho fatta grossa eh lo so vabbè pazienza oh ma qui c'è stato un casino oh mi sa che questa è quella quest che non devo fare sì eh per il momento me ne andrei no mi ha fatto me l'ha attivata scusatemi eh non lo voglio fare adesso perché è un drc che faremo insieme completamente dai è un drc molto mini diciamo però è anche molto interessante lo voglio fare insieme a voi quindi eh per adesso scavido la zona così almeno non ci vado eh la prendo un po' più larga così non mi si attiva e tanti saluti ok perché se no mi si attiva è dopo un casino voi siete esattamente chi ma no si attiva anche qua accidenti ah vattene via quanto larga la devo prendere per non farla attivare ok l'ho fatta allora non vandola siamo sicuri che è qui vicino eh a quanto sembra no ma siamo proprio due passi ok oh ma questo è la casa di Renaud vediamo un po' cosa c'è di bello cazzo perché ha messo quella quella icona per dire rifugio e poi non c'è un cazzo sono io che sono ciecato oppure boh forse è nei pressi vuol dire ma sono abbastanza sicuro che voglia dire casa cioè rifugio ora non c'è un cazzo vediamo un po' forse più qua oddio strano veramente tutti quei cavolo di di codici non si capisce un cazzo potevano fare più semplici allora poi non devi spiegare anche bene vediamo se c'è qualcosa qui o quel cazzo mi ha risposto e che cavolo non c'è niente oh salve ci sono dei ghoul che bello non vedevo l'ora di vederli ok che qui non c'è un cazzo ciao ghoul come ti chiami? eh ma ti viene a rispondermi eh che cavolo ho perso la testa chiudi quella cazzo di bocca cosa? scusa chi? ma dove cazzo sei? non c'è niente che ne pensi? non saprai ti preoccupi per niente dici? probabilmente hai ragione allora è di qua cerchiamo di farla bene questa quest perché sto andando un po' male 34 e qua e questo il luogo oh interessante eh si è questo scusate watt consumer electronics va bene vediamo un pochino qua cosa ci può ah ho capito eh vabbè tappo e torta pane no aggiornamento aggiornamento radolf station 1 vediamo un po' eh in varie aggiornamento radolf vediamo un po' eh agg ho letto male io eccolo qua sentiamo ecco qui teams il rifugio randolf non è stato colpito ma evitate qualsiasi contatto diretto ripeto evitate qualsiasi contatto diretto qui abbiamo tre pacchi se la fanno sotto dalla paura richiedo assistenza il nostro corriere segnala gen 1 accampati nelle vicinanze ci tengono sotto sorveglianza mandate un brutto a ripulire l'area allego coordinate poi riferite tutto alla grande di teams chiudo ho capito il brutto saremo noi o uno dei loro insomma si eh ralph baston ralph volevo solo ricordarti che dell'inventario di stasera come dicevo deve restare fuori dalle documentazioni ufficiali o lo devono sapere pochi addetti al porto meno sono meglio è le unità sono presenti e ci servirà il carrello elevatore tu procurati preoccupati di questo ricorda la whats prememoria dipendenti che sanno fare il gioco di squadra questo deve essere interessante adesso lo mando qui ah troppo non c'è un cazzo ok io mi è venuta voglia di lo so che mi odiate per questo ma di andare a vedere un po' di cose prima di tutto cosa c'è qui madonna c'è tappa roba stavo dicendo mi è venuta voglia di andare qui dentro perché questo edificio non lo conosco e quindi vorrei fare la sua conoscenza una breve conoscenza però vorrei vedere se ci trovo qualcosa di buono al suo interno oh salve lei è un po' crollato lo sa è un po' giù di morale perché se cado qui di salire sarà un bellissimo ok proviamo a vedere oh ma quanta bella gente salve lei è rotto che cazzo perché è così c'è qualcosa che non mi quadra porta me l'ha sbattuto in faccia però a parte quello oh cazzo mi hai fatto caccare in mano oh non si fa così eh cavolo insomma eh io sto parlando è maleducazione vediamo cosa c'è di bello qui oh c'è sette forcine ragazzi ormai le forcine non so dove metterle eh le devo prestare a qualcuno anzi le vendo perché insomma cavoli eh io qui mi piacerebbe o mi dispiace tanto ma lei si era incantato e dopo succede eh vabbè pazienza eh poi scopro che era di vitale importanza e ho fatto la cacata atomica vabbè eh pazienza sono cose della vita ma qua non si fa cazzo no vabbè assolutamente niente ci sono tante porte visitiamole i cessi oh che belli beh una birra nel cesso deve essere molto insomma sì un'altra porta non la sbatto in faccia questa però eh ho uno sturo a cessi a parte quello non c'è un cesso beh una roba da mangiare in eccesso è utile beh due steam pack non è malo eh questi sono buoni e andiamo di nuovo su oh oh ma perché sono messi così c'è qualcosa che non mi quadra uno ci può stare ma salve due sono un po' troppi vediamo se qui c'è una risposta alla nostra domanda andiamo un po' messaggio il carico è pronto è in viaggio lascia il pagamento che abbiamo stabilito nel punto di incontro non provare a fregarmi Felix ti sto procurando robotica di livello elevatissimo mi sentirei protecone militare io mollo caro stronzo io mollo copper mamma mia un messaggio molto eh però no no la cassaforte mi arrangio da solo grazie molto gentile la cassaforte la cassafiorte serve un terminale ah per forza ah va bene stavolta non posso fare diverso ok a quanto sembra mi è toccato far così oh 55 di calibro 50 non è malo comincia ad essere interessante ok andiamo a vedere qui cosa c'è cartuccia mine varie munizioni certo che 115 sono tante dipende se è un mitra sono poche però dico come vabbè di vitale importanza mi dispiace ma cosa mi devo dire scusatemi si è volato il dito due volte vabbè c'è la diffusione e scheda d'appuntamento questi mi servono per fare le difese a casa nostra a casa lì insomma appena posso queste dipendere tutti ma volete che una rivista qui non ci sia io voglio stare molto attento perché in posti così potrebbe potrebbe esserci una radio due radio tre radio ho fatto bingo diciamo potrebbe esserci qualcosa di interessanti ii interessanti interessanti italiano aiutami ok e questi sono niente qui siamo andati radio lavatrici assugatrici c'è di tutto qua oh salve lei è in ginocchio mi dispiace sono tutti non è che a certo punto questi mi attaccano per capirci base vediamo un po' che succede ah e quella è la mia paura che si svegliano e incominciano attaccando tutte le volte mi hanno battuto in faccia la porta ecco qua abito no non volevo prendere l'abito beh ormai l'ho preso pacco di segrete 5 addirittura mamma mia ci facciamo una fumata da panico qua ok di sopra mi sono dimmiato di guardare i cessi i bidoni cioè i cessi steampack 2 è buono ne abbiamo così pochi ma si ne abbiamo solo 342 cosa vuoi che insomma ci manchino ma vedo niente di che oppure io non mi arrendo ci deve essere qualcosa in questo posto a parte tanti robot che aspettano solo di farmi culo qui si va di sotto non ho finito di sopra ah ma posso far così allora fatemi finire di sopra un attico va così a meno finiamo di guardare le cose qua si va poi c'è una porta oddio ho preso proprio male oh ma porca va che non c'è la sponda solo da una parte io tranquillo oh c'è una porta oh salve una porta che si apre beh che si si apre oh ce l'ho fatta ottimo anche di forcine ne abbiamo così poche vediamo un po' una mini nuke non è che madonna i soldi che c'erano non la uso quasi mai cioè fino adesso non l'ho proprio mai usata però questo non vuol dire che non la usi un giorno e il problema è che io sono così pirla che me la sparo nei piedi cioè ancora prima di infilarla dentro mi cade sul piede che ce l'ho con le scarpe antinfortuniste quindi fa proprio una bella scintilla e siamo tutti a posto ok c'è solo due posti da andare uno qua e uno là oh ma sono tutte hardwe accidenti a lui tutti difficili e hardwe vabbè vediamo cosa possiamo fare eh la miseria ce l'ho così fatta oh ce l'ho fatta va bene fantastica eh lo so è stata grande questa quella c'è qui oh questo è buono io mi aspetto sempre che qualcuno si animi mi faccia un culo da panico però non sembra ci sia veramente un cazzo ragazzi alla fine c'è una porta ardua e cosa abbiamo trovato un cazzo di niente cioè io non lo so vabbè adesso l'unico posto da andare è effettivamente vediamo se c'è qualcosa non c'è niente effettivamente di sotto perché qua mi sembra mi sembra eh che poi guardate cioè l'unica cosa che c'era si poteva accedere anche da qui vabbè l'unica cosa dicevo che si può fare è andare di sotto devo stare attento perché anche in queste cose qui porta riviste a volte ci sono mi è capitato di trovare una rivista e quindi devo stare anche attento perché potrebbe esserci va bene stasera vi buttò allora ci sono buttato e non ho trovato un cazzo vediamo un po' se c'è qualcosa qui che poi volendo vedete si può forse risalire o se c'è boia che figata si può risalire va bene andiamo pure a vedere se c'è qualcosa però effettivamente questo posto è strano non capisco non capisco assolutamente dove porti questo porta la sua ma non penso si apra infatti e quindi no scusate colpo di tosse vabbè lasciamo perdere non ho trovato un cazzo di un cazzo di un cazzo perché venire fino a qua che non ci sto capendo un cazzo ma proprio un cazzo di proprio un cazzo di niente però forse forse e dico forse la risposta la possiamo trovare qui comandi della porta apruto e si è aperta oh salve lei è molto felice di vedermi mi fa tanto piacere però io ancora non ho trovato la risposta alla mia domanda che luogo oh salve ragazzi l'esplorazione è l'anima di questo gioco mi vieni include i codici soggetti per hackerare un protract l'ho detto in una lingua che resumo forse italiana però adesso io vado da un protract e vado a vedere se lo posso attiva modalità dimostrativa del server appunto della direzione non capisco cosa sia di così difficile non chiedo altro che disattivare i protocolli militari relativi alla spedizione di robot ricevuta la scorsa notte al fine di mettere in modalità dimostrativa nel negozio è davvero così complicato i computer li conosco bene sei troppo occupato con fumetti videogiochi cresci e collabora allora prima di attivare la modalità dimostrativa vorrei andare da questo protectron ammesso che sia un protectron non mi dici un cazzo quindi proviamo ad attivarla salviamo prima di fare una cacata atomica grosso come una casa e vediamo se si può hackerare il tutto volevo chiudere il video attiva modalità dimostrativa attivata ok vediamo per favore allontanarsi come lo disattivo lo hackero come lo hackero sto cazzone qui non mi dice un cazzo non mi dispiace tanto è successo vabbè vabbè ragazzi ho capito che c'è poco da fare o da dire è ormai andata così abbiamo trovato una rivista una rivista che potrebbe essere interessante non so come funzioni però lo sapevo alla fine non c'è niente qui bene ragazzi direi che ci possiamo fermare qui per questo video è tutto vi invito come al solito a share un like un commento se mi piace la serie e di farmi sapere cosa ne pensate e per adesso vi saluto la sciva ciao